Uomini e donne, Teresa Cilia pubblica un post TikTok che genera polemiche, la reazione. Negli ultimi giorni l'extronista di Uomini e Donne Teresa Cilia è stata particolarmente attiva sui sociali dopo aver raccontato cosa ha fatto della sua fede nuziale. Su TikTok ha fatto una descrizione di ciò che per lei è l'amore. E poi ricordatevi una cosa, quando una donna è troppo possessiva e vi sta appiccicata come una cozza è perché ci tiene a te. Quando una donna fa come una pazza è perché ha creduto in te e tu l'hai delusa. Quando una donna vi fa troppe domande come un detective è perché ci vuole vedere chiaro. Invece quando una donna vi dice lascia stare è perché si è resa e tu l'hai persa. Le parole dell'extronista, però, hanno subito generato diverse polemiche sui sociali e molti le hanno fatto notare che l'amore non è possessione e controllo, ma tutto ok? L'amore non è possessione e controllo. Quello è non fidarsi ed essere insicuri. Come al solito si capisce quello che si vuole capire. Non ho detto che in un rapporto di coppia è giusto essere possessivi, gelosi e quant'altro. Se una donna si dovesse comportare in questa maniera, ma anche un uomo, vuol dire che ha i suoi buoni motivi, vuol dire che ci tiene e ci tiene magari nella posizione in cui l'uomo le fa mancare qualcosa. Questo ho detto, non ho detto però che in un rapporto di coppia ci deve essere questa possessività esagerata. Poi smettiamola di tirare sempre in ballo il mio rapporto con Salvatore, voi mi avete conosciuta uomini e donne. Non mi avete conosciuta nel contesto matrimoniale tra me e il mio ex marito, non siete stati con noi a casa nostra. Vi ricordo che Salvatore giocava a calcio, abitava fuori, non stavamo mai insieme e nessuno gli ha mai controllato il cellulare. Nessuno gli ha mai rotto le scatole ed è sempre stato libero come una farfalla. E la libertà che gli ho dato gli è servita proprio per tradirmi. Infine, la Cilia ha replicato a chi l'accusava di voler tornare con il suo ex marito. Ricorda che quando io butto una cosa non vado a riprenderla, stanne certa e soprattutto mi sono fatta una promessa. Di non voltarmi più per chi non vuole avermi. Io perdono, ma non dimentico, questo è poco, ma sicuro. Un bacio.